ok allora benvenuti al x vodcast di sherwood festival quest'anno nel 2022 siamo con nicolo carnesi ciao ciao a tutti eccoci ciao bravo nicolò noi siamo i nicolo carnesi e poi abbiamo i nicolo carnesi con noi resident storici del vodcast e anche stoici direi come sta dimostrando il cui presente carrot caro francesco averti qui e cari alberti posso dire la stessa cosa anche di voi entrambi anche noi vorremmo dire la stessa cosa di te ma sappiamo se ci riusciremo quale cosa esattamente quella cosa stoici stoici ma voi riuscite a mettervi d'accordo su questa cosa perché da cosa nasce cosa mai mai sono già perso allora credo che questo sia il momento per il primo brindisi di questo vodcast dedicato ad alberto brindisino ad acqua giusto sì sì certo ricordiamo che questo è nato dopo il podcast ma prima della vita sulla terra forse prima della vita sulla terra anche sulla famosa barretta il mars beh cosa si fa in questo allora come mai siete tornati da questa parte da turisti ci siamo persi come ogni volta che arriviamo qua abbiamo sbagliato strada poi siccome non c'era niente in cartellone detto vabbè dai suoniamo no se siete se siete d'accordo aneddoto su dieci anni fa te lo ce l'ho ce l'ho bravo siamo persi ci siamo persi perché dieci anni fa non usavamo google maps ma non perché non ci fosse c'era già ma io ero molto radicale un fenomeno volevo usare l'atlante stradale sì 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 e quindi ci siamo persi ed è da allora era il periodo in cui non c'era ancora il navigatore quello bello educato adesso c'erano i tom tom con una voce fastidiosa era molto facile litigare col tom tom e sì e io non volevo essendo una persona pacifica non volevo litigare con tom di tom di myspace mi sembra giusto con tom di myspace non volevo litigarci e quindi usavo l'atlante stradale che ho ancora da qualche parte ha perso un po di pagine ed è per quello che ci siamo persi allora io volevo chiedervi delle cose che arrivano da telegram va bene ovviamente diffusore di verità altrimenti introvabili giusto come gli euro no quelli di euro nova in copertina i giornali allora un remake di sono così indi fatto dalla compagnia delle indie si sarebbe bello ci vorrebbe forse cioè la compagnia delle indie quella dei profumi o quella cioè il colonialista no ovviamente quelli dei profumi ah vabbè facile allora sotto l'autocompenso si potrebbe fare sì perché no basta che ci girano anche il videoclip videoclip tutti nudi con le camicie di lino e biagiantonacci non ci obbligano a consumare i loro prodotti perché io odio i profumi e sto male vomito molto bene una versione per il mercato americano di mi sono rotto il cazzo con un featuring di john wayne bobbitt john wayne bobbitt è quello il signore degli anelli no a cui lorenna venne credo ah da lorenna non lo so l'è lorenna è il marito di lorenna l'ellorena il fu l'ellorena bobby morto no però insomma è ancora vivo raccontaci fu marito fu marito sì ah non lo so io non lo so rega chi è la storia nota negli anni 90 potrebbe interpretare in un certo senso bene il titolo della vostra canzone ok tra l'altro mi dicono che devi stare più vicino al microfono sì ma fra l'altro è uscita male per cui tocca a me a questo punto tra l'altro faccio un escursus storico sul personaggio perché poi dopo l'amputazione lui ha avuto a diverse tentativi di ricostruzione e per un periodo si è dato anche al porno ah sì è vero con il film uncut credo esatto una cosa una storia di ambientata in in un paese che non crede nell'ebraismo tra l'altro un concept album reggaeton interamente interpretato in linguaggio lis a nome lis locus quando vuoi cazzo una nuova rivisitazione di maiale chiamato impossible pork ci abbiamo pensato ma poi essendo impossibile abbiamo fatto abbiamo diciamo appaltato questa impresa alla alla aia che quella che c'è sì sì quella e e neanche loro ci sono riusciti perché comunque è impossibile e allora l'abbiamo chiesto al signor amadori anche lui non ce l'ha fatta siccome diventa una cosa impossibile da fare noi ci prendiamo carico di questa cosa e qui qui oggi io dico che riusciremo a rendere la musica silenziosa il clamoroso ritrovamento negato dei media di doppia elica storia di un'epocale sbronza inclusiva che preserva i cromosomi di tutto doppia elica tra l'altro ti permette di raggiungere velocità importanti esatto noi ci stiamo addentrando in un mondo come dire poco esplorato ovvero quello degli degli idrovolanti e cercare quindi grazie a questa rivisitazione di cromosomi alimentare un negozio alimentare un negozio alimentare dentro un velivolo che può atterrare anche sull'acqua e così diventare anche ittico la verità sul ladro di cuori con la processionaria demo embrionale dedicata alle manifestazioni nazionali popolari che distruggono la vegetazione durante gli espropri per rovinare la festa allo stronzo mi sono perso devo dire baby anch'io e non abbiamo google maps l'atlante la pagina è sempre senza pagina amore ai tempi di mondo convenienza uno sliding doors tutto italiano nel mondo del legno impiallacciato allora va detto va detto che quando è stata scritta quella canzone mondo convenienza ancora non c'era quindi noi non abbiamo potuto fare c'era il mercatone 1 però aveva già avuto uno sponsor cioè una una figura di riferimento sponsorizzante molto importante molto ingombrante nella storia sportiva di questo paese giustamente poi bebo è molto consapevole e quindi insomma non potevamo fare altro che chiamare quel brano però adesso adesso sarebbe bello amore ai tempi di cose da altre case più popolare foste nati a palermo dove non esiste l'ikea perché l'avreste chiamata amore ai tempi di legno market legno market da quello che so non ha permesso a ikea di aprire non so con quali mezzi ragazzi funzionano uguale a palermo con le carezze gli abbracci di solito ma funziona uguale che ti monti le cose legno market io non lo sai non so montare le cose quindi però mi ricordo mio padre che ci andava da legno market a comprare legno e le cose da montare comunque amore ai tempi legno market ci sta ci sta e poi trap in nome di un pop ormai sempre più a trap al posto di pop certo troppo 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 ci sta è una buona salute carota abbiamo vinto l'impresa speciale come come dice l'operazione che però è un po non suona bene no per niente non suona bene sì che quel pezzo poco credibile quindi potrebbe essere un altro esempio di musica silenziosa quando c'è c'è un ostacolo il segreto non è affrontarlo ma è girarsi dall'altra parte dire dire invece che ostacolo barriera architettonica e sopravvivere ecco sopravvivere è una questione importante come sopravvive lo stato sociale a questi anni di che cambiano questi spostamenti anche non in furgone io con l'autobus abbiamo adottato dei mezzi mezzi di commozione verdi quali i nostri piedi spesso anche senza calzature perché siamo comunque attenti all'ambiente attenti alla produzione di suole compatibili consumo di suola il consumo di suola è un tema le suole non vanno consumate ma sarà bella invece dopo tanti anni da turisti siete veramente di casa qui dentro e quindi vorrei sapere cosa vi fa tornare a Sherwood questa volta sapendo bene dove siete arrivati quando arrivi qua non arrivi su un palco o in una location una venue che poi ne giri tante fai centinaia e centinaia di concerti e dopo un po li confondi e sono un po tutti uguali con tutto il rispetto e l'amore per la professione e quando vieni qua sai che sei in un posto che ti vuole tanto bene e noi abbiamo imparato a volere tanto bene a Sherwood e quindi è come è come tornare da una balotta di amiche e amici che fai sempre un po fatica a beccare perché non si vive nella stessa città non non si sta vicini però quella volta all'anno speri sempre di incrociare le vacanze no invece di fare il campo solare noi andiamo a suonare a Sherwood Festival che è una cosa che ci fa tornare adolescenti in un senso romantico e bello e quindi siccome l'ultima volta credo che sia stato il 2018 e che c'era stato appunto quel gran Sanremo che che ci ha dato tante gioie e anche tanto da pensare poi in questi quattro anni che sono passati arrivare qua è un buon modo per lavare via il brutto del mondo della musica lavare via i peccati dice che ecco non 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 i peccati il brutto del mondo della musica che effettivamente abbiamo anche toccato con mano e tornare a essere appunto la band che con turisti della democrazia con una scommessa fatta da chi organizza questo festival ci ha chiamato ci ha dato la possibilità di fare il primo concerto grosso per davvero della nostra vita e come festeggiare un compleanno ecco e quindi è bello farci la festa e abbiamo voglia di fare festa quando torniamo qua per me la prima volta allo Sherwood lo conoscevo di fama e quindi a lo conoscevo di fama ma ero convinto che fosse in mezzo tipo al bosco quindi io ero convinto ieri infatti stavo anche per portarmi anzi ce l'ho in hotel c'ho una giacca che una volta suonai non era il veneto però era la lombardia in un posto boscoso e poi la sera faceva freddo io non avevo niente ho dovuto comprare una felpa bruttissima ma sotto sotto è rivestito e poi comunque siamo a nord io resto ormai vivo a bologna però resto un uomo un ragazzo del sud di palermitano quindi ho detto vabbè ci sarà il bosco il fresco mi sono portato una giacca ma non la userò una giacca però oltre questo una giacca da caccia cioè di quelle con le taschine ha molte frecce al suo arco bisogna dire o da pesca però sono molto molto felice di partecipare per la prima volta che ha cambiato colore dei cappelli lodo è diventato un po più un po più meridionale sì sto camuffando l'accento però almeno non rovina cioè questo personaggio nuovo che sto creando sì muovi le mani così vedi è lodo ho sentito ho sentito dire che in questo periodo il vostro mecenatismo si sta muovendo parecchio che ne è dei vostri progetti paralleli non fare troppe domande quali sono i nostri progetti di cosa stai parlando io non so di cosa stai parlando collezionare dolciumi ah ok bebo e appassionato i dolciumi ma non li colleziono perché li mangia subito li mangia persi all'ittica l'abbiamo già detto sì sì fare le scommesse all'ittodromo fare qualcosa di fantastico fare qualcosa di fantastico l'ho un po fermato perché poi sai quando sei troppo fantastico tendi a brillare di luce propria e ho avuto un contenzioso con alcune stelle e alcune ditte produttrici di occhiali da sole anche che si lamentavano è stato tutto difficile molto ed è per questo che questo è un pre parto più che un pre party perché è il parto del concerto di questa sera che cosa avrà di diverso il concerto di stasera rispetto a quello che faceste dieci anni or sono è tutto cioè nel senso che la schedetta è diversa ma non troppi sono un po cambiati gli strumenti sul palco no anche quando saltiamo e riatterriamo ci facciamo male si è successo ma speriamo di non farlo più ci dimentichiamo le parole delle canzoni ma quello è sempre uno standard comunque un tempo lo facevamo apposta per non essere non sembrare troppo bravi adesso invece lo facciamo nella parabola non sembra che e poi cosa facciamo di diverso c'è 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 qualcuno che c'è nicolo carnesi nicolo carnesi che suona un paio di pezzi nostri perché comunque noi tendiamo a essere egemonici io non so chi sia questo nicolo carnesi è un sostituto di lodo palermitano ah ok sì e poi cos'altro c'è cosa c'è di diverso che ecco dentro di noi sul palco c'è solo l'acqua solo acqua sul palco io ho in tasca sempre delle viti in una e dei bulloni nell'altra così perché se si rompe qualcosa io posso aggiustarlo così e poi portiamo le scarpe quest'anno ma hanno tutte le suole ecosostenibili sì e carota non trasmettiamo più in odorama no perché ci laviamo perché ci laviamo differenza di prima che ci lavavamo ma con meno frequenza esatto e basta però insomma da fuori non cambia molto dentro è cambiata però da fuori sembra la stessa cosa solo con la com'è che si chiama la la memoria che poi siamo più belli adesso è stata veramente bella la memoria ti è piaciuta non me lo ricordo a proposito dei monumenti avete portato anche voi dei vostri bauli avete portato soprattutto all'attenzione del grande pubblico il problema delle maestranze dello spettacolo e il problema di uno stato che non ha fatto abbastanza e a volte anche qualche operatore non ha fatto abbastanza per cercare di uscire da questa situazione come vedete queste riaperture questo nuovo periodo questo nuovo capitolo di un'esperienza che ancora comunque alle maglie molto strette e è come come è andata come è stato gestito insomma sotto gli occhi di tutti e quindi il settore dello spettacolo è stato semplicemente gestito peggio rispetto al alla totalità del dello stato della popolazione e questo dall'altro lato è vero che ha prodotto comunque tanto movimento dal punto della richiesta di rivendicazioni di diritti è in ballo una una fetta di riforma che riconoscerà la discontinuità e quindi l'introduzione del reddito di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo che è una norma che esiste da tanto tempo in diversi stati e finalmente anche in italia potrebbe essere appunto applicata e quindi entrare all'improvviso nel 2022 figuriamoci se guardiamo al futuro e invece sulla questione riaperture che dirti momo io penso che il fatto che questa band si chiami lo stato sociale faccia delle date gratis a un euro a cinque euro racconti come noi viviamo il mercato della musica poi ci sono artisti che preferiscono guardare il pubblico come ha dei portafogli su due gambe e fanno bene ma scelta sono liberi di prendere in mano le loro carriere come meglio credono noi per quest'anno abbiamo deciso così proprio perché non è un bel periodo per le tasche delle persone bisogna guardare anche questo e quindi sì parliamo di riapertura e di ripartenza ma a che costo hai detto ma a che costo puntini puntini esatto ah ok eh sì di spalle non veniva bene quando è uscito turisti della democrazia pensiero andava ai suoni di band come mai orson mixtape di cui a volte anche abbiamo vinto la guerra sembra un po' un figlio di me and the washing machine un certo pop che comunque girava nell'aria bolognese da tanto tempo e che voi siete riusciti a portare su palchi importanti e in situazioni grandi cosa vi manca della Bologna degli inizi? ma forse forse una sensazione di essere in una scena cioè all'epoca a Bologna comunque c'era un sacco di musica underground c'era un sacco di ritrovo e in questo momento un po' forse mi manca la sensazione di scena cioè di condividere dei posti non lo so sì non c'è poi non voglio fare dei discorsi da boomer porca miseria forse sì forse ho quasi 40 anni c'ho una figlia piccola anche e comincio a sentirmi vecchio sul serio no il fatto è che la c'è in qualche modo la digitalizzazione i social Spotify un po' in qualche modo ha piattito tutto e ha tolto spazio agli spazi nel senso che le cose non si creano più insieme di persona spesso non si va neanche più in sala prove ma uno sta in casa sua, in camera sua, fa le cose, poi chiama gli amici poi c'è subito un contratto, poi c'è subito un management insomma non c'è più una scena nel senso che non si lavora più tra le persone localmente non si costruisce un qualcosa che abbia a che fare con la comunità e con gli spazi cioè con l'occupazione degli spazi nel senso di utilizzare gli spazi e farci qualcosa sia per la città sia per la cultura in generale abbiamo un po' di problemi da questo punto di vista nel senso che tutto si è spostato sulla rete e quindi sì manca un po' quel discorso là cosa che prima c'era e adesso non c'è più ma è un discorso da boomer forse sì però tuttavia io sento questo quello che cerchiamo di portare da quell'esperienza lì cioè da quasi 10-12 anni fa ormai è quello di ricostruire un qualcosa che abbia a che fare con le persone il portare una festa, un parco giochi all'interno di una situazione che non abbia a che fare semplicemente con la moda con il modo di vestirsi con il modo di fruire la cultura ma c'è proprio un modo di stare insieme di fare le cose insieme di partecipare di farmi insegnare il dialetto lì in fianco alla porta del senso chimico rossa in cambio di? niente dai non è vero sì io ho fatto venire in mente una cosa al discorso di Checco cioè che appunto aggiungeva anche a quello di Carrot quando parliamo di scena ci scordiamo spesso che è anche frutto dell'amatorialità in Italia in questi 10 anni c'è stata un'iper professionalizzazione un tentativo costante di mettere a sistema e a mercato la cultura e la musica nel nostro caso e quando noi eravamo sbarbi tra i 20-25 anni quando abbiamo iniziato con i progetti prima dello stato sociale poi dello stato sociale non esisteva l'idea di fare diventare questa cosa il mestiere della tua vita adesso che vedi che effettivamente ci sono delle possibilità magari sei direttivo da questo punto di vista e togli della magia le scene sono fatte di gente che al 90% non fa questo di mestiere la tiene viva proprio per quella roba lì cioè noi facciamo questo mestiere perché il 99,9% del nostro pubblico non è professionista della musica ma è amante della musica e quindi è venuto un po' forse a scemare l'amore sincero scevro dall'idea di profitto di mestiere di carriera perché lo fai? boh perché è una figata sto con gli altri e invece c'è un po' stato inoculato dentro il rivismo brutto che alle volte esiste aggiungo una cosa tra parte che mi riconosco in quello che hanno detto perché Palermo fondamentalmente era la stessa cosa io adesso sto vivendo a Bologna i primi due anni li ho vissuti praticamente in pandemia ma musicalmente sono cresciuto a Palermo e quando ci torno ho la stessa identica sensazione del racconto di Checco cioè mi ricordo quando avevamo 20 anni 23 anni 22 suonavamo stavamo per strada nei vari localacci di qualsiasi tipo scoprivamo cosa c'era in giro si faceva musica in maniera totalmente estemporanea ma non c'era la minima idea che quella cosa potesse diventare un lavoro che avesse a che fare con gli uffici stampa con i social e così via sì c'era Facebook ma non te ne fregava nulla cioè andavi in giro suonavi e succedevano le cose io cominciai mi ricordo i miei primi concerti a Palermo erano per strada cioè andavo con la chitarra in via Ruggero VII si chiama vicino al Teatro Massimo mi mettevo lì con la chitarra e cantavo canzoni alla gente che passava e conobbi pure un sacco di persone così ed era era divertente e un'altra cosa per concludere che noto cioè da musicista poi facendo i concerti mi ricordo che dieci anni fa arrivavano i ragazzi ragazzi e ragazze e ti chiedevano tipo ti facevano domande che ne so nerd che pedali usi o come sei arrivato a scrivere questa cosa adesso quando mi capita di vivere quei contesti le domande sono subito come sei arrivato a fare questa cosa qui ma hai l'ufficio stai l'etichetta cioè mi sembra proprio che si parta da quello che poi deve essere un arrivo secondo me è controproducente proprio per l'arte bisognerebbe partire invece dall'essenza che fare musica non ha niente a che fare inizialmente con il lavoro e io non ho mai voluto lavorare in vita mia per questo cerco di fare il musicista una vita in vacanza esattamente praticamente ma allora visto tutto questo cosa in particolare un nome una band di Bologna una band di Palermo che vi manca degli anni in cui avete iniziato a scoprire che c'era qualcosa un grande baluardo di questo approccio sono le altre di Bologna proprio una di quelle band che a me continua a scaldare il cuore anche per amicizia per carità però quando li vedi stare sul palco pensi che bello sta gente qua proprio quello che mi serve una volta scrissi proprio un messaggio a Giacomo Gelati e gli ho detto oh regà siete proprio quella balotta di cui uno dice vi guarda da fuori e dice vorrei far parte di quella balotta lì perché c'è quella roba lì c'è quell'entusiasmo c'è quel saper stare sul palco c'è quella cosa super genuina e disinteressata rispetto a a tutto quello che in realtà è il lavoro e quella cosa brutta che è diventata la commercializzazione e la professionalizzazione di una cosa che dovrebbe essere sempre comunque anche quando ti pagano anche quando lo fai di lavoro anche quando vai in radio ci dovrebbe essere sempre avanti l'entusiasmo e il fatto che stai facendo una cosa che è un super privilegio farla e cazzo ci dobbiamo divertire sempre no per me le baraghe corte c'era uno ska era un carica molla il ragazzo che cantava era olandese bolognese che parlava sempre così a me di Palermo vengono in mente i Wines che era un gruppo che faceva tipo un electro blues sporchissimo proprio mi divertivo un sacco i loro concerti e non suonano più e mi piacerebbe rivedere un loro concerto noi vi vediamo poi sul palco e vediamo di che colore avrà i capelli Lodo perché sono molto curioso questa sera questa è una domanda che mi pongo davvero perché avrai i capelli ricci Nicolo? o non avrai i capelli? non lo sapremo fino al concerto dello stato sociale preceduti da Espagna Circo Este seguiti da Sibode un performer un DJ un'esperienza da vivere sul second stage dopo lo stato sociale egli a Spagna Circo Este e assieme a Nicolo Carnesi qui su Radio Sherwood allo Sherwood Festival 2022 io sono Troy McClure e vi ringrazio grazie ciao a dopo ciao ciao ciao